Perdonate la bruciatura maestosa, ma io col sole faccio così. Oggi siamo venuti alla piscina di Salvo, alla piscina privata di Salvo. Perché c'è il cash. Prima siamo stati là in acqua e adesso siamo qua nel boschetto a rinfrescarci, dove ci sono i gattini. Non c'ho fatta. Com'è stato? Fredda. No, in che senso? Aspetta. No, aspetta. No, in che senso? Devi essere serio. Perché se è fredda me la faccio a casa. È così. È congelata. Vabbè, io mi lavo a casa. No, tu ti lavi qua. No, mi lavo a casa. Puzzi. Eh, vabbè, non fa niente, mi sopportare le altre due ore. Andiamo da Cri a sentire quanto era calda la doccia. Era congelata. Stavo... Io non me la sono fatta. Io... Io ero... Ho aperto l'acqua, poi la toccavo così con la manina, la riscaldavo un pochino e me l'ha passata. Praticamente, le ragazze si sono fatte la doccia prima, no? Poi si è arrivati, salvo Dio, e la doccia era ghiacciata. Però a Cri avevano detto che era bollente. E Cri è freddoloso di natura, e quindi... Com'è la doccia? È fredda. Sta morendo. Aspetta. Scherzone finito male? Ti piaciuto lo scherzone? Sì, sì, scherzone, scherzone. Tanto tu domani sei con me. Vabbè, domani siamo insieme. Eh. Faffo che mangiamo oggi? Fogaccia e arancino. Un arancino. Un arancino. San Daniele non lo fanno. E là c'è l'insalata. E là c'è l'insalata. Vabbè. Salve a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua insieme al signor Cristian Faffo. Ciao. E siamo dentro a questo luogo abbandonato. Non sto urlando perché c'è comunque gente fuori. Siamo sulla spiaggia, direi. Lì c'è la spiaggia, fate conto. E... Oggi andiamo a fare questa esplorazione un po' così. Scattiamo qualche fotino un po' urbex, un po' random. Ma registriamo perché non sappiamo bene cosa potrebbe succedere. Esatto. E non voglio merire. Nemmeno io. Ci potrebbe essere una sorta di... qualche... Taglia. Ci potrebbe essere qualche cane o qualche barbone, quindi... Siamo attenti. Pericoloso. Vinto male. Stiamo provando a farci qualche bella clip, no? E il signor Cristian si vuole provarsi a vedere su questo muretto. La mia domanda è stata, riesci a sederti senza ammalarti? No. Poi ti tocco. E la faccio. E' più che altro ecco. Schifo. No. Scusi. Poi. Tienomi... Scusi. Scusi, ho. Ho. Ok. E ora? Allora, come giusto che sia, ovviamente a Messina, in Sicilia, cosa ti fai? Non te lo mangio un cannolo? Sì, certo. E quindi oggi abbiamo preso i cannolini pre-pranzo e nel pranzo ci facciamo un cannolo. Esatto. A me se lo scoccio non si apre, ok. Unboxing del cannolo. Unboxing del cannolo. Siciliano. Allora, io l'ho preso normale, lui l'ho preso senza le noccioline. Le noccioline di sopra, vabbè, la facciamo vedere. Ovviamente con la ricotta. Ovvio. Il cannolo. Passiamo all'assaggio. Vai. Aspetta. Mascherina. Vai, ce l'ho anche sotto. Vai. Minchia. Allora, io sono siciliano. Però non mangiamo il cannolo da un bel po'. Ti voglio, ti buono. Questi mi mancheranno, salito su. Aspetta, vorrei. Adoro. È già finito. È un altro. Non me lo chiedere. Approvato. Oggi penultimo giorno, quindi steggiamo una mini cassatina e la granita al cioccolato. Oggi siamo venuti a Castelmola. È un paesino veramente in un posto orribile, super una montagna. Devi saltare per arrivare alla mia altezza del vlog. Salpù. E siamo ovviamente sul mare e il paesino è qua sopra, ok? E signor Faffo, ci vuol dire cosa c'è dentro a Castelmola, nello specifico? Cosa andiamo a vedere? I membri riproduttivi maschili. Comunque è bella la ripresa contro luce, complimenti per la professionalità. E insomma c'è un bar che è completamente dedicato a questa cosa. E quindi adesso andiamo, andiamo a vedere. Mi ruba il lavoro. Sei tu che lo rubi a me. Siamo arrivati davanti al bar. Non si dice. È il bar che non si nomina. Com'è questo bar? Non puoi registrare, su YouTube non lo puoi mettere. Vediamo, secondo me sì. Ci siamo finalmente riusciti a sedere e il menù ha una forma. Aurora, mi mostri la forma del menù. Pure le lampadine. Io volevo sentire pure solo. E pure una testa. Ciao. E questa sera, visto che è l'ultima sera, la rifacciamo a Taormina. Esatto. Dove c'è la pizza che piace a lui. La pizza buona. In verità è una pizza normalissima, però lui piace particolarmente. E qua dietro c'è il vulcano con il fumo. Che bello che si vede contro luce, guarda. Ci sta salutando Aurora e ci abbandona. E domani non ci sarà il mio addio. Sì, io. Siamo andando in aeroporto. E mi porta la Cristian. Allora, siamo arrivati con tipo 4 ore d'anticipo in aeroporto perché avevamo l'ansia. E quindi siamo andati in questo centro commerciale a mangiare. Siamo andati da KFC. E abbiamo fatto anche un giletto. Guardi, guardi il KFC. KFC spagami che ti sto sponsorizzando in un mio video. C'è anche l'ultima da Mascot. E quindi ora ci salutiamo perché abbiamo visto che in aeroporto non ci possiamo fermare. E quindi adesso abbraccio. È troppo alto. Ok, devo tutti affidare? Sì, vai. Adesso ci facciamo male. Aspetta, senza spiacciare. Servo la mano. Yeah, sono più alto. Sì. Abbraccio. Abbraccio. Ti tieni tu? Ok. Voglio scendere. Voglio scendere, te lo andrò a po'. Abbraccio. Cosa ha vinto? Abbraccio a salvo. Sì, aiuto. Ciao salvo. Ciao. Io ti cerco. E dobbiamo fare le cose, dobbiamo fare le sfide su Fortnite. Ah, ricordatevi. Che giorno? Sul tetto della macchina. No, è sconvenibile. Vuoi dire già la data in cui ci sarà la live? No. Ah, ok. Anche perché loro lo vedranno a settembre, avrò già fatto delle altre live, mi aspetto. Spero. Che bello, è quasi tanto tardi. Ok. Adesso salutiamo Christian. Dammi, tengo io. Tieni tu. Tengo io. Non farla volare, per favore. Non la faccio volare. E' stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio, amici addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Noi ci dobbiamo lasciare, ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare. Addio, addio, amici addio. Addio, addio. Venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi. Qui con voi. Hey! Allura. 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 Grazie a tutti.